Vabbè, Rastelli è un ottimo allenatore, l'ha dimostrato negli anni e sicuramente tutti, compreso io, ci aspettavamo che il ruolino di marcia fosse migliore. In effetti quando arrivò inizialmente sembrava prendere quella direzione, io non conosco i dettagli perché stando lontano non posso seguire vicino, vedere il partito di allenamento e non posso sicuramente giudicare l'operato tecnico di Rastelli, però una cosa è certa, lui sa il fatto suo. Il fatto che diceva della tensione, che sono forse troppo bravi i ragazzi, ci sta, fa parte del gioco e evidentemente ancora non sono pronti per certe piazze alcuni di questi calciatori.